Costi elevati, tempi lunghi, danni ambientali. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo no all'alta velocità ferroviaria sull'asse del Brennero e rilancia il potenziamento dell'attuale ferrovia. Sentiamo. Non un no oltransista e categorico, ma un ragionamento su alternative possibili, immediate e poco impattanti dal punto di vista ambientale ed economico. Il Movimento 5 Stelle Trentino, pochi giorni dopo la visita del ministro alle infrastrutture Lupi al cantiere della Val di Sarco, porta alla ribalta il tema del tunnel di base del Brennero e dell'alta velocità ferroviaria Merce sull'asse Verona-Monaco di Baviera. Lo fa contestando i dati di un incremento costante del passaggio di tir sull'auto Brennero, tale da giustificare l'imponente investimento ferroviario. Le previsioni dei progettisti dell'opera sono sbagliate. Sono sbagliate del 30% perché il traffico Merce è in diminuzione dal 2008. Quali sono eventuali altre perplessità su quest'opera? L'Unione Europea ci chiede di diminuire entro gennaio 2015 le emissioni inquinanti dell'autostrada A22. Secondo l'Agenzia dell'Ambiente di Bolzano devono essere ridotte del 45%. Ci chiediamo quindi perché le autorità insistano su quest'opera che sarà realizzata eventualmente tra 20 anni e che non risolvono problemi di inquinamento che invece dobbiamo risolvere subito. Potenziare la ferrovia attuale, renderla più appetibile economicamente. Questo l'obiettivo dei 5 Stelle.